Il Gavorrano di Mister Buso ospita l'Aquila, capolista del Girone, Orfano di Losicco e mi hanno squalificati. Il 4-3-1-2 è il modulo tattico dei Maremmani, cui risponde il 4-3-3 della capolista. Negli abruzzesi una vecchia conoscenza dei tifosi del Grosseto, Mirko Garaffoni, classe 1976. Parte bene il Gavorrano, già al settimo minuto Nicoletti strappa palla ad un avversario, c'è Dan Nocciolini che a propria volta cerca Fioretti. La difesa abruzzese è attenta e libera. Al 14esimo Blaiotta deve uscire per infortunio, al suo posto Leone. Al 20esimo l'Aquila avvicina al gol con una conclusione velenosa di Improta, a Dario alza sopra la traversa. Al 30esimo triangolazione per così dire lunga tra Fioretti e Nocciolini, il tiro di Fioretti viene respinto in corner dal portiere ospite, testa. Al 32esimo c'è un calcio d'angolo per l'Aquila, affidato a Capparella. Piccioni sembra sfiorare la traiettoria, ma il tocco sfortunato ad infilare la propria rete è probabilmente di Alderotti. Gavorrano 0, l'Aquila 1. I Maremmani avrebbero già tre minuti dopo la possibilità di raddrizzare il risultato. Alderotti scaglia in avanti un pallone dalla propria linea difensiva. La retroguardia ospite non disimpegna a dovere, palla sui piedi di Fioretti che però mette a lato. Al 46esimo episodio che fa gridare al calcio di rigore i tifosi rosso-blu, Nocciolini scambia con Manzo, tentativo di cross di quest'ultimo intercettato di mano da un giocatore in maglia bianca. L'arbitro Tardino di Milano opta per la punizione dal limite dell'area. E poi Galbiati a tentare la conclusione diretta in porta, testa respinge. Si va così all'intervallo con l'Aquila, avanti per 1 a 0. Si torna in campo con gli stessi effettivi da entrambe le parti. Al settimo minuto la sfera giunge a Galbiati. Conclusione dai 35 metri, palla nell'angolo e primo gol stagionale per il centrocampista rosso-blu, Gavorrano 1, l'Aquila 1. La reazione degli ospiti si manifesta al tredicesimo. A Dario esce pericolosamente dai pali senza fare propria la sfera. Al termine di un confuso fraseggio è Piccioni a cercare la via del gol. Alla fine a Dario riesce ad abbrancare il pallone. Al quattordicesimo si rivede in attacco il Gavorrano, complice questo diagonale di Rosati, che termina alto sopra la traversa. Al sedicesimo ancora l'Aquila pericolosamente in attacco. L'Ugiero impegna con un tiro insidioso a Dario al termine di un'azione scaturita da un fallo di Alderotti su Colussi. Al diciassettesimo nel Gavorrano fuori Nocciolini e dentro Pulina. Subito dopo negli abruzzesi Campinoti esce invece per Agnello. Al trentunesimo ospiti vicinissimi al vantaggio. Capparella batte un calcio d'angolo, scambia con Perfetti, poi crossa verso il centro dell'area Maremmana dove è appostato Colussi. Il centro avanti abruzzese colpisce di testa a botta sicura ma a Dario fa il miracolo, il risultato non cambia. Gli ultimi minuti di partita passano alla cronaca solo per le sostituzioni. Menichetti esce per Tognarelli, Galbiati per Masini e in prota per Pianese finisce così uno a uno.